Elezioni amministrative ed europee, da domani la due giorni alle urne. Auto contro moto a Pesaro in strada a Montefeltro, muore 45enne. Truffe agli anziani e spaccio, arrivano arresti ed espulsioni di stranieri. Carenze di medici nel pesarese, 30 nuove assunzioni entro giugno. VL Ecco, coach Sacripanti e il nuovo CDA Biancorosso. Buona serata a tutti voi, pubblico di Rossini TV. Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione serale di Rossini News. Telegiornale di venerdì 7 giugno, vigilia di una due giorni di elezioni che porterà 38 comuni della provincia di Pesaro e Urbino ad eleggere altrettanti sindaci e nuovi consigli comunali e che porterà naturalmente l'Italia intera anche ai seggi per quello che riguarda le elezioni europee. Nel nostro primo servizio di questa sera ci concentriamo su Pesaro, in particolare sulle indicazioni utili per chi andrà a votare, in particolare fra quello che riguarda il recupero delle tessere elettorali e le variazioni di seggi previste. Saranno più di 80.000 gli aventi diritto al voto della città di Pesaro che sabato 8 e domenica 9 giugno potranno presentarsi alle urne per eleggere il nuovo sindaco dopo dieci anni di Matteo Ricci, scegliendo fra quattro candidati. Così come potranno eleggere i 32 nuovi componenti del Consiglio Comunale fra 433 candidati, espressione delle 15 liste presenti sulla scheda azzurra delle elezioni amministrative. Si vota da sabato alle 15 fino alle 23 e poi da domenica alle 7 fino alla chiusura dei seggi alle 23. Per votare i cittadini dovranno presentarsi al proprio seggio muniti di documento di identità valido e tessera elettorale. Per munirsi dei duplicati delle tessere sono previste aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Comune. La sede centrale di Largomamiani sarà aperta per l'intera giornata di sabato e domenica al pari del municipio di Monteciccardo. Monteciccardo che sarà anche chiamata al voto per l'elezione del Consiglio e Presidente del Municipio. Aperti sabato e domenica mattina gli sportelli di Villa Fastigi e Cinque Torri, la domenica mattina quelli di Muraglia, Cattabrighe e Borgo Santa Maria. Il Comune di Pesaro ha sostituito alcuni seggi in particolare per i cantieri di edilizia scolastica. Quelli della scuola Anna Frank si spostano nei locali del quartiere Vismara in via Basento. I locali comunali di Pozzo Alto sono sostituiti da quelli parrocchiali. Quelli di via Petrarca 18 a Muraglia si spostano a pochi metri nel centro socioculturale Salice Gualdoni. I seggi della scuola Mascarucci si troveranno in via Le Trieste 236 negli spazi di Pesaro Studi. Inoltre, le tre sezioni ubicate nel plesso Perticari di corso 11 settembre sono trasferite nel plesso del liceo Mengaroni con accesso da via Mengaroni 29, così come le sezioni di Candelara dell'ex scuola elementare di strada della Pieve sono trasferite nella sede della circoscrizione in strada Borgo Santa Lucia 40. Per favorire lo spostamento degli elettori dei seggi sostituiti, il Comune ha previsto un servizio di navetta gratuita ogni ora con partenza da via Agostini, sede della Dante Alighieri. Raggiungerà prima Pesaro Studi, poi Santa Maria delle Fabrecce, infine i seggi di via Basento a Vismara. Nelle telegiornali di ieri vi abbiamo proposto un servizio esplicativo dei meccanismi delle elezioni amministrative per quello che riguarda i centri urbani maggiori come Pesaro Fanurbino, così come per quel che riguarda i comuni sotto i 15.000 abitanti. Questa sera vi ricordiamo invece il funzionamento delle elezioni europee. È una scheda elettorale di colore rosso rubino, quella che sabato 8 e domenica 9 giugno sarà a disposizione degli elettori della circoscrizione dell'Italia centrale in occasione della chiamata alle urne per le elezioni europee 2024. Nell'occasione l'Italia eleggerà 76 membri del Parlamento europeo, 15 quelli che saranno eletti dalla circoscrizione dell'Italia centrale alla quale appartengono i cittadini della provincia di Pesaro Urbino. Elettori pesaresi che potranno votare solo i candidati della propria circoscrizione geografica che prevede Marche, Umbria, Lazio e Toscana. Circoscrizione in cui sono presenti 12 partiti o liste per un totale di 180 candidati. Si vota tracciando una X sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. Se si traccia un segno su più contrassegni, il voto risulta nullo. Ogni elettore può esprimere al massimo tre voti di preferenza per candidati che appartengono alla lista prescelta. Nelle elezioni europee, infatti, non è possibile il voto disgiunto. I candidati indicati nelle preferenze devono appartenere alla lista scelta. Se si decide di esprimere più di una preferenza, devono essere indicati candidati di sesso diverso. Ad esempio, se si esprimono due preferenze, devono essere un uomo e una donna. Se si esprimono tre preferenze, devono essere due donne e un uomo o viceversa. In caso di mancato rispetto delle preferenze di genere, verranno annullate le preferenze successive alla prima. I seggi saranno aperti dalle ore 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. Lo spoglio dei voti comincerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi delle 23 di domenica. Lasciamo la politica e passiamo alla cronaca, perché purtroppo c'è stato un incidente mortale nella notte, poco dopo la mezzanotte, in strada Montefeltro a Pesaro. E' deceduto un uomo di 45 anni in sella ad una moto Yamaha in un incidente con un'automobile, dalla dinamica ancora da chiarire. L'incidente è avvenuto a pochi metri dall'ingresso del ristorante Palis, dove questa mattina giaceva un mazzo di fiori vicino a rottami della motocicletta e a pochi metri dai rilievi della polizia. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma l'uomo è morto in seguito ai gravi traumi riportati nell'impatto. Non sono state ancora fornite le generalità del deceduto. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada perché sull'asfalto si era riversata benzina. Altri arresti da parte della questura di Pesaro nel contrasto alle truffe agli anziani. La squadra mobile ha infatti fermato una donna di 45 anni e un sedicenne provenienti da Napoli, entrambi pregiudicati. I due sono indagati per truffa aggravata a danni di una 78enne pesarese adescata al telefono con il racconto di un incidente stradale conferiti causato dal figlio e con conseguente necessità di consegnare monilli in oro per evitare la carcerazione. Alla vittima erano stati sottratti gioielli per un valore di 4.700 euro, preziosi che la squadra mobile ha ritrovato e restituito alla vittima. Polizia, carabinieri e guardia di finanza con l'ausilio delle polizie locali di Pesaro Fano e le unità cinofile hanno intensificato nell'ultimo mese i controlli su spaccio e degrado urbano concentrandosi su parco Miralfiore e stazione ferroviaria di Pesaro e sul centro storico di Fano così come sui locali pubblici dei due comuni. Otto cittadini stranieri ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica sono stati espulsi dal territorio nazionale e accompagnati oltre frontiera con volo aereo. Controlli che sul tema sono stati allargati anche su Vallefoglia e Urbino. Un marocchino destinatario di decreto di espulsione del prefetto di Coma è stato invece arrestato dalla polfer locale. Cinque gli arresti per il reato di detenzione e fini di spaccio di stupefacenti con quasi due chili di sostanze sequestrate, in maggior parte marijuana e hashish ma anche cocaina, eroina, crack e funghi allucinogeni. Lasciamo la cronaca e parliamo della sanità pesarese che entro questo mese di giugno si rafforzerà di oltre 30 medici e quanto assicura il direttore generale dell'Ast provinciale Alberto Carelli che garantisce un imminente forte impulso alle assunzioni dalle graduatorie dei vari concorsi banditi per coprire le carenze d'organico nei vari reparti. Sono previsti anche otto nuovi infermieri e in particolare arriveranno otto dirigenti medici per la medicina d'urgenza, sei medici per anestesia e reanimazione, quattro nella disciplina di oftalmologia e mentre per il reparto di cardiologia verranno assunti cinque medici entro l'anno. Inoltre sono in partenza le lettere per l'assunzione di almeno otto psichiatri mentre per la medicina interna sono partite le comunicazioni per il reclutamento di otto medici. Ed ora cambiamo radicalmente argomento perché proprio questo pomeriggio in municipio a Pesero è stato il giorno di coach sacripanti del nuovo CDA della VL. Riparte infatti da loro in serie A2 la risalita del basket bianco-rosso. La vittoria Libertas Pesero riparte da Pino Sacripanti. In una sala del consiglio comunale gremita da detti e lavori e tifosi la società bianco-rossa ha presentato il nuovo allenatore e l'intero consiglio di amministrazione che guiderà il nuovo corso della VL verso una risalita in serie A1 nelle più breve tempo possibile. Sacripanti ritrova Pesero dopo i due anni positivi trascorsi nelle stagioni 2007-2008 e 2008-2009 consapevole delle valore delle campionato che la sua squadra dovrà affrontare. È stata una scelta importante perché si è presentata l'occasione con una grande chiarezza e serietà nella programmazione data dalla società. Lo stimolo di venire a Pesero è per ripartire anche con un po' di foglio bianco sotto un certo aspetto perché come sapete dopo purtroppo la retrocessione non ci sono più giocatori e quindi bisogna rifare un po' tutto. Questo è stato di grande stimolo e poi non nascondo che non si vive di solo pane anche un lato affettivo è stato molto importante. Io quando sono sempre ritornato a Pesero sono sempre stato accolto in maniera molto affettuosa, molto calorosa e questo ha pesato molto. Però l'aver parlato con il Presidente, con il Consigliere d'amministrazione, l'aver chiarito così una programmazione di poter fare il meglio possibile per quello che si possa fare con la giusta ambizione. Mi ha spinto, mi ha dato l'idea, la voglia, lo stimolo di una nuova sfida. Partiamo da un ragazzo, da Maretto, che è un ragazzo secondo me molto, non dico talentuoso, però con grande prospettiva e cercheremo nel più breve tempo possibile di mettere almeno i primi puntelli per poter fare la squadra. Una VL che nelle prossime settimane procederà alla costruzione della squadra, sperando che Cincerini e Mazzola possano ancora vestire i colori biancorossi. Ho parlato con Andrea di persona, ho parlato con Valerio esclusivamente per telefono, il tambone non c'è più, gli altri due ragazzi, diciamo che ho avuto con grande piacere un messaggio appena firmato per Pesaro da Leo Totè, però nei torte anni di Visconti hanno dato la disponibilità tramite la loro agenzia di tornare a Pesaro, quindi insomma ne prendiamo atto e cerchiamo di andare avanti. Nuovo allenatore, nuovo CDA e nuovo presidente nella figura di Andrea Valli che con grande passione e volontà vuole riportare la VL dove le compete. Le emozioni sono molte, nel senso che comunque sia sono un tifoso che vede la VL da quando al Palasport c'erano i tubolari innocenti come è, per cui ne ho vissute di tutte, sia buone che cattive. Speriamo di dare un contributo tutti insieme positivo per far crescere e continuare questa passione che c'è a Pesaro per lo sport e per la pallacanestra in particolare. Le motivazioni sono appunto il fatto di poter continuare a seguire questa squadra e a cercare di portarla in un ambito che più le compete per la passione dei tifosi, per la storia e per tutto che sicuramente l'A2 per noi è solo un momento transitorio. Il budget, come dicevo prima, stiamo cercando di fare in modo che quello dell'anno scorso non venga intaccato più di tanto rispetto chiaramente a una discesa in A2 che vuol dire anche main sponsor e quant'altro una normale riduzione di quello che è. Però il budget sarà quello che sicuramente ci permetterà di fare i playoff e di fare qualcosa in più per lottare, per risalire velocemente. Nel prossimo servizio andiamo al liceo Mengaroni di Pesaro dove si è tenuto un concorso che pensa gli spazi per la casa inclusiva per i non vedenti. Il liceo artistico Mengaroni di Pesaro ha premiato gli alunni vincitori del concorso Gordiano Rossini. Un bando che nasce dalla volontà della famiglia Rossini di commemorare il compianto Gordiano che fu prima ex studente del Mengaroni e poi divenne eccellente interior designer. Il concorso organizzato assieme all'Unione Cecchi Ipovedenti prevedeva la realizzazione di spazi per la casa, in particolare una cucina che portassero idee innovative e inclusive verso i portatori di disabilità in particolare quella visiva. Questo è un concorso che riguarda i ragazzi che stanno facendo la sezione di architettura e design interni per realizzare una cucina e gli strumenti della cucina accessibili, in particolare le persone con disabilità visiva che siano cieche o ipovedenti. E quindi i ragazzi che si sono incontrati diverse volte con noi e anche con il dottor Rossini per alcune altre spiegazioni tecniche hanno realizzato dei lavori sia di gruppo che individuali veramente belli e complessi. Abbiamo pensato di ritornare un po' questa gratitudine al liceo e agli studenti istituzendo una borsa di studio e scegliendo un corso di studio in interior design proprio perché da un lato nostro papà è diventato un disegnatore di mobili e nell'azienda che coordino comunque anche noi siamo calati nel contesto dell'intero design perché produciamo software per architetti, progettisti, disegnatore di te. Quindi ci sembrava ideale questo connubio e abbiamo lanciato l'idea alla dirigente che l'ha apprezzata sin da subito e ha dato un progetto estremamente interessante i risultati che sono arrivati al termine del progetto sono stati davvero incredibili e straordinari. Si dice molto spesso semplicisticamente che i ragazzi sembrano sbogliati sembrano un poco propensi all'impegno, allo sforzo invece credo che abbiano dato una dimostrazione incredibile di obbligazione, di applicazione, di collaborazione desiderosi di conoscere il mondo del lavoro e di dare forma a questo tipo di progetto. Il primo premio del concorso è stato assegnato a Riccardo Mattioli. Poter aiutare queste persone a vivere la propria vita senza essere aiutate oppure magari con l'aiuto ma come persone che non soffrono di disabilità appunto non hanno bisogno di questo usino e la mia idea è quella di poter rendere la vita di queste persone diciamo come quella di tutti perché alla fine sono tutte uguali. E per la Commissione è stato difficile scegliere e individuare i progetti da premiare infatti un piccolo riconoscimento per tutti però i progetti dimostrano veramente delle competenze elevate quindi io ringrazio anche gli insegnanti, la professore Sapalaccio, il professore Antiglio, il professor D'Antuono e la famiglia Rossini che veramente ha dato questa preziosa opportunità. Ed ora ci occupiamo della settimana da capitale della cultura in corso nel progetto 50x50 capitali al quadrato che riguarda Isola del Piano. Ieri il monastero di Montebello ha ospitato Vandana Shiva, attivista indiana di fama planetaria per le sue battaglie per la tutela della biodiversità e contro l'utilizzo degli OGM in agricoltura. Ospite che Isola del Piano attendeva da ben 12 anni, ovvero da quando il compianto Gino Girolomoni gli conferì il Farmers Friend dedicato a coloro che hanno contribuito a rinnovare l'agricoltura mondiale. Ospite del sindaco Paolina all'interno della segna La Donna Rurale, la Shiva è stata al centro della tavola rotonda Le Donne Guardiane del Futuro. Una settimana da capitale di Isola del Piano che prosegue con altri appuntamenti dalla presenza domani del poeta paesologo Franco Arminio con l'iniziativa Canti della Gratitudine alla chiusura della settimana domenica sera con il concerto notturno contadino dell'Orchestra Olimpia. Temi a partire dalla presenza di Vandana Shiva che potrete approfondire in uno speciale che Rossini TV trasmetterà martedì 11 giugno alle ore 21.20. E continuano a ricrearsi gli appuntamenti settimanali fissi dell'estate pesarese. Questa settimana sono ripartiti i martedì del San Pietrino Summer Street, invece dal lunedì 10 giugno tornano i concerti fissi del lunedì alla Palla di Pomodoro. Inizia l'estate, riparte la programmazione, tutti i lunedì alla Palla di Pomodoro per la musica da ballo, un'iniziativa che richiama molte, molte persone. Devo dire che anche quest'anno Castellina Pasi, Elena Camarrono, una grandissima orchestra, oppure Roberta Cappelletti, proprio la signora del liscio per eccellenza italiana, e anche delle eccellenze di gruppi di Pesaro come l'Orchestra di Palazzi, l'Orchestra Balla Onda e comunque tante altre, Fabrizio Guidi, eccetera, saranno presenti alla Palla di Pomodoro tutti i lunedì dal 10 giugno, adesso dal 10 giugno fino alle 2 settembre. La data extra di Ferragosto sarà quest'anno con Annalisa Minetti e la sua band, dove farà tutte le canzoni, i suoi successi, anche dove ha vinto Sanremo. Lavoriamo anche nella promozione di Piazzale d'Annunzio, che sta diventando un centro sempre più importante per le famiglie, quest'anno avremo anche delle collaborazioni importanti con Coccole Sonore, per quanto riguarda i bambini più piccoli, e faremo sia attività di animazione, sia attività di cinema all'aperto con cinema d'animazione. E dunque appuntamenti fissi lunedì alla Palla di Pomodoro, martedì in Piazza Toschi Mosca, mentre mercoledì è il giorno di Via Passeri. Quest'anno commercianti e ristoratori accoglieranno i turisti e i cittadini in quella che è una nuova Via Passeri, sempre più animata, sempre più attiva, sempre più in sinergia con tutte le istituzioni locali. Tantissimi eventi in collaborazione con la Biblioteca San Giovanni, il Museo Nazionale Rossini che rimarrà aperto durante le serate con attività e laboratori, i Musei Oliveriani che rispetteranno un'apertura serale in occasione dei nostri mercoledì, e poi tanta musica, musica di tutti i tipi, dal genere classico al genere jazz, al blues. Abbiamo cercato di collezionare un palinsesto di artisti che non siano solo pesaresi, ma che arrivino anche da fuori, proprio per portare tantissima varietà e tantissima ricchezza all'evento. Tutti i nostri eventi saranno all'interno di un sito web, che è stato costruito ormai un paio d'anni fa con la nascita dell'associazione, che appunto sarà il taccuino dove annoteremo tutto il programma della nostra estate. Non ci saranno tutti i mercoledì, ce ne saranno di meno, ma con un programma davvero molto intenso. Chiusura pedonale, apertura alla passeggiata, restituiamo la via ai cittadini a 360 gradi. E sono pronti a tornare anche gli spettacoli all'aperto al Parco Miralfiore della rassegna Miral Teatro d'Estate, che proporrà 14 spettacoli fra l'8 luglio e l'8 agosto. Oggi l'Amata ha annunciato i titoli, che partono con il romanzo della Bibbia, storia narrata a due voci, Daldo Cazzullo e Monio Vadia. Si prosegue con la metamorfosi di Ovidio attraverso i Munedaico e Nina Pons, Aladdin Sendi in musica, la buona novella dei Perturbazione, Alessandro Bergonzoni con Sempre sia rodato, il pianoforte di Remo Anzovini con Don't Forget the Fly, lo scrittore Gianluca Gotto in Le domande che ti cambiano la vita, e ancora Welcome to the Musical, il coro filarmonico Rossini diretto da Federico Raffaelli, il concerto di Frida Bollani-Magoni e Albert Hino, il concerto di violini della filarmonica Rossini, e chiusura con la festa Sound Park Fest, con le sonorità travolgenti di I Hate My Village, Lalalar e Korobu. E restiamo in ambito di palcoscenico e concludiamo il nostro telegiornale con una intervista all'autrice teatrale Laura Corraducci che il prossimo lunedì porterà un suo recital in scena al Cinema Loreto. Lunedì 10 giugno alle ore 21 torna a Pesaro al Cinema Loreto il Rovescio della Luce, un recital scritto da Laura Corraducci che lo ripropone ad ingresso gratuito anche grazie al contributo dell'Arcidiosisi di Pesaro, uno spettacolo che cade anche in una ricorrenza particolare. Sì, coincide con una ricorrenza importante. Il 2024 sono gli 80 anni della liberazione di Pesaro e il recital torna con me e con Cristian della Chiara, l'altra voce narrante degli eventi importanti che sono avvenuti nella nostra città ma anche nei paesi della nostra provincia, fra cui un episodio che è veramente di luce e che riguarda la chiesa francescana dei Cappuccini, una chiesa che tutti i pesaresi conoscono, che è vicino alla stazione, nella qual chiesa, nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, è avvenuto un evento positivo in un contesto veramente orribile come ovviamente il contesto della guerra e che racconteremo nuovamente, come hai detto tu, lunedì 10 giugno alle ore 21 al Cinema Loreto. Mi fa piacere ricordare che l'ingresso è libero, quindi non c'è il costo di un biglietto, grazie proprio al contributo dell'Arcidiocesi di Pesaro. Io ringrazio anche Don Marco Di Giorgio perché ha accolto con entusiasmo lo spettacolo e quindi spero che i cittadini pesaresi possano essere in tanti a rivedere, a riscoprire forse, perché non tutti questi eventi sono così conosciuti e forse noi camminiamo per le vie della città senza sapere che cosa queste vie portino con loro e quanta storia di chi ci ha preceduto sia importante per noi. Si conclude qui il nostro telegiornale Rossini News, gli spazi informativi su Rossini TV però continuano per tutto questo venerdì sera, a cominciare da ciò che avviene subito dopo il Tg, ovvero il nostro magazine La Natura della Cultura. Questa sera il nostro Teobaldo Bianchini vi porterà alla scoperta della nuova settimana da Capitale della Cultura che sta per arrivare, quella dedicata al Comune di Carpegna. L'appuntamento è alle 20 in questo magazine che ha queste fasce orarie, ovvero il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 8, le 13, le 20 e poi tutte le tre puntate settimanali che sono di nuovo apprezzabili tutte assieme domani alle 12, le 19 e domenica alle 15 e alle 21. E poi questa sera un lungo ripasso per chi dovrà andare al voto, sia a Pesaro che a Fanno che a Urbino perché vi riproporremo tutti i confronti tra i candidati a sindaco dei tre maggiori poli urbani cittadini, ovvero le tre città che hanno anche la possibilità di andare al ballottaggio. Alle 21 rivedrete il confronto tra i quattro candidati a sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, Marco Lanzi, Pia Perricci e Fabrizio Oliva nella puntata di Amministrando Andata in Onda questa settimana. A seguire alle 22 vi riproporremo il confronto tra i tre candidati sindaci di Efano, Cristian Fanesi, Luca Serfilippi e Stefano Marchegiani e infine alle 23 il confronto tra i tre candidati a sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, Federico Scaramucci e Maria Francesca Crespini. Tre puntate di Amministrando che vi terranno compagnia dalle 21 alle 23 e 30 circa in questo venerdì pre-elettorale. E domattina torna puntuale buongiorno Rossini e la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali come sempre in diretta rassegna del sabato che sarà condotta da Marco Cadeddu. E poi altra diretta, vi ricordiamo l'appuntamento, quello con la maratona elettorale di lunedì 10 giugno. Andremo a scoprire passo dopo passo l'andamento dello spoglio dei voti delle elezioni europee e delle elezioni amministrative. Tra pomeriggio e sera vi terremo compagnia in diretta con la nostra direttrice Emanuela Rossi in studio assieme al curatore di Amministrando Luigi Benelli e collegamenti per quel che riguarda quanto accadrà a Pesaro, Fano e nel resto della provincia. Ed è davvero tutto per questa sera. Si conclude qui Rossini News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi.